Dimmi. Quanto costa? Sono 60 euro. Dai, lo prendo. Va benissimo. Sono 75 euro. Guardi che aveva detto 60. Prima era 60, perché è passato un po' di tempo, quindi il prezzo è aumentato. È aumentato. Adesso siamo a 80 euro. Ti lasceresti trattare così da un conto corrente? Con i conti Genius non ci sono sorprese, perché hanno il prezzo bloccato fino al 2010. Unicredit Banca. Posso contarci.